Non mi piace essere troppo enoggiato, troppo quello che ho fatto, però è bello di tornare qui, torno qualche volta a casa, è molto bello. Dal podio che l'ha coronato campione mondiale di nuoto al palco del Parasport di Schio, è tornato a casa per qualche giorno Thomas Ceccon, che ha fatto tappa al Pallaromare in occasione della sesta edizione di Masiera Academy, la Kermess che preme agli studenti che si sono distinti nello sport e in altre eccellenze. Sicuramente di fare sport è bello, bellissimo, ti fai anche amici in qualsiasi sport fai, è divertente. Se magari non ti piace troppo studiare come magari era a me, ti dedichi anche magari a qualcos'altro che magari ti piace veramente tanto. Borse di studio, premi e soprattutto la partecipazione di un pubblico speciale. Quindi se sotto c'è un'atmosfera e sotto c'è meno di un'atmosfera, il foglio si solleve. Questa storia qua è sotto la logica degli aerei che sticcano il volo, si chiama portanza. A parlare ragazzi, i campioni, ma anche gli influencer, che hanno capito che la comunicazione è importante, soprattutto se passa attraverso i social. Da Monopoli a Schio, Vincenzo Schettini, il professore che dal 2017 utilizza i social per arrivare ai ragazzi con il format La Fisica che mi piace. Una forza esercitata su una determinata superficie crea pressione. E nello sport c'è tantissima pressione. Beh, bisogna saper gestire quella pressione. Sul palco anche il tienese Gigi Dalligna, manager di Aprilia Educati. Grazie a tutti.